ciao fragoline benvenuti in questo nuovo video allora il continuo dei gratta e luci nell'altro video abbiamo vinto 5 euro se ancora non avete visto il video che è uscito l'altra volta andatelo a vedere invece questa volta ho preso il puzzle e mamma non mama di nuovo perché mi piace come gratta e vinci e ho voluto prenderlo di nuovo invece il puzzle è quello dell'altra volta che mi sono divertita e l'ho voluto prendere anche questo ovviamente ho speso 6 euro e ho deciso di non spendere più di 10 euro di gratta e vinci almeno che non sono due gratta e vinci preferirei fare così comunque prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video e se ne volete vedere altri dei gratta e vinci un commentino qua sotto se volete che grato altri gratta e vinci nuovi seguirmi su instagram che lì vi darò qualche spoiler se quale dei gratta e vinci compro che ho deciso di fare così e detto questo se avete fatto tutte queste cose iniziamo il video vediamo se questa volta vinciamo più di 5 euro o sono perdenti per cui vediamo vi lascio al video allora iniziamo da mamma non mamma o dal puzzle ovviamente non potete rispondermi per cui io sarei curiosa di iniziare con mamma non mamma per cui iniziamo con questo che l'altro lo mettiamo da parte allora iniziamo con il cuore un disco spero che lo vedete se non allargo così poi un pantalone poi uno smile un cuore siamo già due una roulotte un arcobaleno dovrei dovrei ok poi un altro cuore e siamo a 3 poi pace qui ci sono gli occhiali un altro cuore siamo a 4 grattiamo bene non si so mai qua abbiamo le cuffie abbiamo una farfalla e un fiore questi sono quelli che allora il cuore diciamo che non ne abbiamo trovato per cui sono solo 4 vediamo quel bonus che è la fotografia e se ovviamente non c'è se per caso c'era questo simbolo avevamo vinto 3 euro ok direi che questo grattevinci è perdente proviamo con il puzzle vediamo se ci porta fortuna allora io direi di grattare uno per uno ad esempio il 66 che non c'è poi il 17 niente 35 niente il 22 non c'è spero che riuscite a vederlo 42 neanche 33 non c'è il 60 eccolo qui ok poi andiamo sotto e troviamo un 70 che non c'è un 38 è qua sotto poi 68 è qua sotto manca praticamente ne manca uno praticamente se troviamo il 61 abbiamo vinto 46 no il 16 è qui poi il 61 abbiamo completato il puzzle che culo ho completato il puzzle per cui in poche parole credo che c'è solo quello vediamo 49 c'è qui e l'ultimo il 50 che non c'è per cui abbiamo trovato il ferro il ferro è qua sotto abbiamo vinto 5 euro 5 euro e anche questo è praticamente vincente vincente allora io direi di fare una controllatina così vedo se è giusto allora ho controllato e questo è vincente 5 euro invece questo è perdente per cui adesso grattiamo bene anzi sarei curiosa di vedere anche qua sotto i primi tanto alla fine qua avevamo 500 200 20 3 euro e 200.000 ok direi che perché qua era la corona poi c'era la cucinella in poche parole ok beh dai non è andata così diciamo andata abbastanza bene perché 5 euro sempre 5 euro sono per cui abbiamo vinto 5 euro meno male dai questa è la seconda volta direi che per la seconda volta e credo che giugno mi ha portato fortuna perché se avete visto l'altro video praticamente con questo ho vinto 15 euro ho speso 12 euro di grattevinci perché ne ho presi 4 ovviamente tutti a 3 euro e ho vinto 15 euro totali per cui con questo che è 5 euro praticamente 15 euro sono soddisfatta perché 15 euro sono sempre 15 euro invece di vincere 1 euro 2 euro per la prima volta ogni tanto vinco qualche cifra un po' di più questo ovviamente perdente e questo invece 5 euro meglio di niente ok niente questo video finisce qui spero che vi è piaciuto anche questo video fatemi sapere quale grattevinci volete che prendo allora io sinceramente non vorrei spendere 10 o 20 euro di grattevinci cioè se spendo 20 euro di grattevinci dovrebbero essere ad esempio 5 di questi e altri non so oppure 10 di questi e altri 10 di questi cioè vuol dire che invece di comprare solo un grattevinci da 20 euro preferisco comprare che ne so 20 grattevinci e spendere 20 euro che è più bello che comprare solo un grattevinci da 10 un grattevinci da 20 perché secondo me non vinci niente per cui è la maggior parte da quello che ho capito che vinci di più se spendi 3 euro massimo 5 non di più dipende va diciamo di fortuna e comunque fatemi sapere sotto nei commenti se volete altri nuovi grattevinci o quale grattevinci vi piace di più che io grattevinci detto questo vorrei anche ricordarvi che ho deciso che in agosto per almeno 3 settimane no 2 settimane scusate per almeno 2 settimane vedete i grattevinci come video pubblicherò solo quelli per il mese di agosto calcolate che anche se pubblicherò il mese di agosto solo i video dei grattevinci da settembre non so se diciamo pubblicare e prendere altri grattevinci oppure fare tra virgolette una pausa solo a settembre perché calcolate che io di questi ne prendo un po' ne dovrei prendere forse 12 di grattevinci per cui ho già calcolato tutto e prendere altri grattevinci per poi registrare anche a settembre non lo so devo valutare comunque vedrò se mettere anche a settembre i grattevinci che sono sempre due volte al mese dato che in agosto vedete solo grattevinci e vedere se vinco qualcosa anche in agosto se mi porta fortuna per cui vorrei precisare questo questo è l'ultimo video che vedete a luglio e da agosto vedete altri grattevinci che dovrebbero essere una volta a settimana o due volte non mi ricordo comunque li vedete praticamente in agosto tutto il mese di agosto volevo dirvi questo detto questo ci vediamo al prossimo video ovviamente vi aspetto sul mio canale per cui iscrivetevi al mio canale e sia su instagram che lì ci saranno sempre qualche spoiler dei grattevinci detto questo ci vediamo al prossimo video ciao ciao